All'inizio pensavo che i miei incubi fossero terminati. Mi sbagliavo. In una terra ostile, dove nessuno osa mettere piede. A quattro uomini è stato dato un incarico da portare a termine ad ogni costo. La missione è semplice. Recuperare la creatura preziosissima, unica nella sua specie. Con il talento di Giacomo Sorana e la presenza straordinaria di Giorgio Giusti, Giacomo Sorana è L'ultimo scema Guarda che io ancora me la faccio sotto. È vero già! All'inizio è vero già! All'inizio è vero già! Grazie a tutti